Buongiorno e benvenuti a 3 minuti con rete. In questa puntata sono con Emanuele Santi di Movimento Democratico San Marino Insieme, perché oggi vogliamo parlarvi di un'interpellanza che proprio questa mattina abbiamo depositato come Democrazia e Movimento, che è appunto il nome della nostra coalizione. Perché oggi parliamo di Stefano Palmieri. Chi segue la politica lo conosce già da tempo, per chi non lo conosce la sua biografia di Wikipedia dice che nel 2003 ha fondato il Movimento Bianco Azzurro, poi confluito in un'alleanza popolare due anni dopo. Nel 2006 diventa appunto consigliere di Allianza Popolare e lo rimane fino a 2012. È stato capitano reggente con Francesco Mussoni nel semestre del 2009 e alle ultime elezioni del 2016 rimane fuori al primo turno, ma poi entra in consiglio tra i ripescati dopo il ballottaggio. Perché parliamo di Palmieri? Perché la prossima settimana torna a riunirsi l'Assemblea dei Socii di Cassa di Risparmio che dovrà esprimersi, tra le altre cose, sull'acquisizione di asset banca da parte di Cassa di Risparmio. Sì, dai, insomma, non è che l'acquisisce, è la pagocita proprio. Ecco, il consigliere di Alleanza Popolare Stefano Palmieri, invitato all'Assemblea di Cassa di Risparmio in qualità di sindaco di governo, ha comunicato ieri che non prenderà parte l'Assemblea in quanto la sua posizione lavorativa, quale dipendente di asset banca, è in conflitto con il suo ruolo di sindaco di governo e noi siamo d'accordo. La sua posizione è tremendamente in conflitto con il ruolo che è chiamato a svolgere, ma non solo in questa occasione. Il sindaco di governo, infatti, rappresenta lo Stato in giudizio, in atti o vertenze di natura finanziaria e patrimoniale. Quello del sindaco di governo è quindi un ruolo delicatissimo in cui è fondamentale prestare attenzione a possibili incompatibilità o conflitti di interesse. Purtroppo a nostro avviso questa maggioranza non ha avuto questa sensibilità nominando Stefano Palmieri, visto che oltre ad essere dipendente di asset banca, Palmieri è anche stato dipendente di Cassa di Risparmio e non solo è stato dipendente di Cassa di Risparmio ma ha anche intentato una causa civile, attualmente in corso, contro Cassa di Risparmio. Quindi di elementi che segnalano la non opportunità di indicare lui quale sindaco di governo ce ne sono molti, ma questo ai regnanti di adesso.sm non interessa perché tanto, lo hanno già detto, una legge sul conflitto di interessi specificatamente rivolta ai membri del Consiglio Grande Generale non esiste. Ma noi siamo convinti che, nonostante non esista una normativa specifica, il ruolo di sindaco di governo assegnato a Palmieri rimanga inopportuno e ravvisi i conflitti di interesse. Proprio delle questioni relative ai conflitti di interesse dei consiglieri si era occupata nel 2015 anche il magistrato dirigente Valerio Piafelici che aveva rimarcato perché sussista in concreto il conflitto è necessario che il vantaggio conseguito dal consigliere sia così rilevante da creare quantomeno la percezione oggettiva del sacrificio dell'interesse generale. In questo senso diventa fondamentale conoscere, e lo chiediamo nella nostra interpellanza, quale sia l'ammontare del risarcimento richiesto da Palmieri nella causa in corso contro Cassa di Risparmio. Oltre a questo chiediamo anche se, al di là del quadro normativo, il governo non ravveda nelle posizioni di Palmieri un conflitto di interessi quantomeno imbarassante, se non addirittura vergognoso. Chiediamo anche se, in caso di incorporazione di asset banca in Cassa di Risparmio, il governo ritenga di garantire l'assunzione del signor Palmieri a carico di una banca di proprietà dello Stato, da lui messa sotto vertenta, e se la sua eventuale assunzione in Cassa di Risparmio non rappresenti una violazione ai fini dello statuto della banca stessa. Infine, nell'interpellanza, chiediamo al governo se corrisponde al vero che il consigliere, il signor Stefano Palmieri, in ambito della possibile incorporazione di asset in Cassa di Risparmio e dei possibili licenziamenti preannunciati dal segretario Celli, abbia abusato della propria posizione di membro di maggioranza e di sindaco di governo al fine di condizionare i propri colleghi di asset banca, creando fra loro sconcerto e agitazione. Comunque, il testo integrale dell'interpellanza è disponibile sul nostro sito. Passiamo ora alla cronaca, con la notizia relativa all'indagine della Guardia di Finanza di Rimini, che ha portato alla luce l'esistenza di un'associazione delinquere dedita a reati di frode fiscali nel settore del commercio online e di apparati elettronici. La scoperta è stata possibile anche grazie alla collaborazione del Tribunale di San Marino. Le due società oggetto di indagine, infatti, hanno sede formale nella Repubblica di San Marino, ma le fiamme gialle hanno rilevato che svolgevano la propria attività prevalentemente in Italia. Proprio in Italia, infatti, hanno individuato il magazzino in cui veniva stoccata la merce oggetto delle vendite online. Da lì si è appurato che i ricavi occultati ammontavano a 70 milioni di euro. Nel corso dell'indagine è emersa l'esistenza di altre 13 imprese localizzate nelle province di Napoli, Caserta, Roma, Pescara e Pisa, che, pur avendo fornito 10 milioni di euro di apparati elettronici alle due ditte sanmarinesi, non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi. Il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di sequestro preventivo per 33 milioni di euro, che corrisponde all'ammontare delle imposte e vase. Per fortuna chiudiamo in bellezza, perché inizia oggi pomeriggio alle 15.30 e continuerà fino a domattina la Notte Bianca dell'Università di San Marino. Quest'anno è dedicata ai ruoli e alle sensibilità femminili in ambiti come scienze, arti e società, sintetizzate nel titolo Ricucire il mondo. Conferenze, dibattite, musiche, DJ set e tanto altro, dove alla sede dell'Università incontra De Omerelli nel Centro Storico. Il programma è disponibile sul sito www.unirsm.sm oppure sulla pagina Facebook dell'Università. Noi ci vediamo lì, invece con tre minuti correnti ci vediamo lunedì. Ciao a tutti, ciao, buon weekend, ciao.